Ecco cosa hanno detto i ragazzi ieri sera parlando dell'opinionista Beatrice Luzzi Lunedì 7 ottobre 2024 una nuova puntata del Grande Fratello andrà come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 35 Alfonso Signorini accompagnato come sempre in studio da Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi ci guiderà in una puntata che si preannuncia assolutamente ricca di emozioni e colpi di scena Questa notte alcuni dei concorrenti si sono fermati a parlare della nota opinionista Beatrice Luzzi e Luca ha dichiarato Beatrice è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro ed è come se dicesse al pubblico, allora mi metto di traverso nella maniera opposta Io le scelte che fa non la capisco, sembra che scelga di fare il bastian contrario Fa l'avvocato del diavolo, è come se volesse provocare, fa dei ragionamenti sensati e coerenti, ma ogni tanto non la capisco Su come si pone spesso non la capisco, tira fuori spunti e tante cose, però davvero faccio fatica Iago dal canto suo ha detto, sono d'accordo però attenzione perché lei è intelligente come la strega di Macbeth Sì lei è come una delle streghe di Macbeth, Shaila ha invece paura di quello che Beatrice potrebbe dirle stasera, poi vabbè lei fa il suo lavoro, diciamocelo dai Se non provoca cosa sta a fare lì, a ricamare l'uncinetto, io mi preparo già a domani sera Pensa quante me ne dirà adesso, sono già pronta a quello che può succedere Calvani ha poi chiuso il discorso così, siamo qui anche per farci sfrucugliare dalle opinioniste Quindi ci sfrucuglieranno, ci faremo sfrucugliare sorridenti come faranno con te domani Tu stai tranquilla che tanto tocca a tutti e alla fine siamo anche qui per questo